international sim un prodotto del nostro albero da utilizzare senza connetterti ad internet e godere dei vantaggi del sistema world international sim una sim gsm che ti dà tutti i vantaggi e benefici del global mobile network di world se sei in viaggio per vacanza business o semplicemente hai necessità di muoverti in giro per il mondo potrai sempre comunicare a tariffe locali e ricevere senza costi di roma effettuare una telefonata con la e sim è facile digita il numero che vuoi chiamare preceduto dal prefisso internazionale dopo pochi secondi il tuo telefono squillerà ti basterà rispondere e sarai connesso con il numero chiamato risparmi più dell'ottanta per cento nelle tue chiamate internazionali rispetto al tuo operatore tradizionale chiamate a tariffe speciali verso tutte le soft sim ricezione sms a costo zero in oltre 50 paesi controllo balance e ricarica direttamente dal cellulare per quando sei all'estero possibilità di attivare un numero di rete fissa di oltre 50 paesi direttamente sull'i sim ti piace the word connect the world